La Dinamo Banco di Sardegna cade ad Avellino al cospetto di una sidiga sconcreta e agguerrita sospinta da due ex che hanno lasciato il segno sulla gara, Marquis Green e David Logan. I giganti hanno issato bandiera bianca solo nell'ultimo periodo, complice sicuramente la giornata non proprio esaltante al tiro di diversi giocatori. Comunque sia la contesa ha visto lampi importanti di gioco che hanno permesso a Lessi e i compagni di riportarsi a ridosso i lirpini fino almeno uno. Giocate di classe e di lupi hanno fatto sì che la sidiga svincesse la partita. I biancazzurri sono volati in Francia dove mercoledì giocheranno gara 1 dei quarti di finale di Champions League contro il Monaco. Ci si attende una ripresa pronta per poter continuare l'avventura europea. Ci sono tutte le componenti e l'entusiasmo giusto unito alla voglia e rivalsa dei giocatori che sanno benissimo di avere il loro destino in mano, con un occhio anche al rush finale di un campionato sempre più equilibrato e sempre più indecifrabile. Grazie. 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 Grazie.